Il saluto a Milano del questore Giuseppe Petronzi, che sarà prefetto e commissario del governo a Trento. L'incarico nel capoluogo Lombardo è stato segnato negli ultimi giorni dal ferimento dell'agente di polizia Alambrate. Lo ha intervistato Camilla Manconi. Vediamo se è pronto il servizio. Dopo tre anni e mezzo, Giuseppe Petronzi lascia la questura di Milano nominato prefetto. Andrà a Trento, anni densissimi dal Covid, alla gestione dell'ordine pubblico in una città in continua crescita, in cui il tema sicurezza è sempre al centro del dibattito pubblico. Ho imparato che Milano è una città veramente meravigliosa e che va servita in una maniera molto particolare, in cui la sicurezza è un asset importante. Lo aveva già detto alla festa della polizia il questore, va compreso il senso di insicurezza dei cittadini, perché se i reati nel complesso calano preoccupano l'aumento di rapine e uso di coltelli. Ma nel salutare la stampa vuole sottolineare l'impegno costante di donne e uomini ogni giorno al servizio della collettività, spesso mettendo a rischio la propria vita, come il vice ispettore Cristian Di Martino ha coltellato la stazione di Lambrate. Io ho delle divise macchiate. E ho ragazzi che si sacrificano ogni giorno e che lo continueranno a fare, a prescindere da qualunque altra condizione esterna. Quel 9 maggio, dice Petronzi, il giorno più difficile ero in ospedale per un'operazione e non ho potuto fare tutto ciò che avrei voluto. Vivere un pochino il senso di impotenza, di non essere qui, di non poter andare ad abbracciare le persone, di non ricevere i genitori. Per il suo successore, Bruno Megale, auguri e parole di stima. Milano andrà in mani eccellenti. Il nuovo questore si insedierà il 20 maggio. Megale ha trascorso 15 anni in via Fatebene Fratelli, ricoprendo tra gli altri l'incarico di dirigente della Digos.